Zero sprechi e innaffiamo con l'acqua piovana e poi si va in bici. Sono 20.000 i metri quadrati attrezzati. Da 20 a 5.000 posti in poche mosse. Lavorare comodi, connessi e carichi. Distribuiamo il cibo in eccesso e ne siamo molto fieri. La regia dell'evento a portata di mano. Sono più di 20 anni che facciamo eventi. Lasciati sedurre. La regia dell'evento a portata di mano. La regia dell'evento a portata di mano.